150 mila euro, a tanto ammonta il contributo che la regione siciliana ha assegnato all'Istituto Musicale Arturo Toscanini di Ribera, una realtà appunto di riferimento per il territorio che fino a qualche anno fa rischiava la chiusura e che adesso invece guarda con fiducia e ottimismo al futuro. In favore del Toscanini è intervenuto qualche giorno fa il presidente della regione Nello Musumeci in persona che proprio a Ribera ha assunto impegni specifici e garanzie per la sopravvivenza dell'Istituto durante le celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di Francesco Crispi. Adesso dunque la notizia del contributo pari a 150 mila euro che dovrebbe essere mantenuto per il triennio fino al 2020. Del futuro del Toscanini con particolare riferimento alle risorse economiche e alle prospettive legate al completamento del processo di statalizzazione si è parlato durante un incontro che il direttore dell'Istituto Mariangela Longo e il presidente Giuseppe Tortorici hanno avuto con il governatore Musumeci. L'utenza del Toscanini nel frattempo continua ad aumentare e quest'anno potrebbe raggiungere oltre 400 iscritti. Si attende che vengano autorizzati dal Ministero dell'Istruzione 16 nuovi bienni richiesti per il nuovo anno accademico, mentre per i nuovi corsi universitari già autorizzati si attende il trasferimento dell'Istituto nella nuova sede assegnata dal Comune di Ribera e dove si stanno effettuando tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa vigente.